I figli sono uno degli obiettivi più importanti per le famiglie italiane. Ogni genitore infatti sente la necessità di riuscire a preservare economicamente il loro futuro. In questo video cercherò di dare la mia opinione personale per riuscire a realizzare questo obiettivo, andando a parlare di due fattori che ritengo imprescindibili per riuscire a realizzare al meglio l'obiettivo figli e parlando dei tre strumenti finanziari che ritengo più idonei al raggiungimento di questo obiettivo. Prima di partire però mi presento, io sono Davide Pasetto, consulente finanziario autonomo di Atena SCF. I due fattori che ritengo imprescindibili sono la libertà di scelta e il tempo. Partiamo dal primo, che cosa intendo per libertà di scelta? A mio avviso la libertà di scelta è la possibilità che i figli, una volta diventati maggiorenni o comunque dopo gli studi, come può essere il diploma o una laurea triennale o magistrale, abbiano quel capitale che gli permetta di realizzare le proprie esperienze di vita, all'estero oppure l'avviamento di una propria attività. Quindi come genitore devi riuscire a perseguire secondo me queste due strade. La prima è quella di accumulare più denaro possibile da poterli lasciare, così riuscirà più facilmente a realizzare i suoi obiettivi personali. Il secondo invece riguarda l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quindi la consapevolezza, l'importanza del denaro e di come deve essere utilizzato, sia a livello di risparmio sia a livello di investimento. In questo modo il figlio diventerà consapevole e anche se riceverà una buona somma di denaro in giovane età, per esempio a 20-25 anni, sarà in grado di gestirla al meglio, riuscendo a realizzare i suoi obiettivi, precisamente i suoi obiettivi e non i vostri. Infatti come genitore non bisogna imporgli troppi vincoli ma appunto lasciargli la libertà di scelta. Se si trasferisce del denaro al proprio figlio bisogna essere consapevoli che quel denaro diventa suo e quindi che sarà lui stesso a gestirlo. Quindi non bisogna dirgli come utilizzare questi soldi, ma bisogna renderlo consapevole al fine di gestire al meglio questi soldi per i suoi obiettivi, come appunto ho detto precedentemente per un viaggio, per un'esperienza all'estero, per avviare la propria attività. Il secondo fattore imprescindibile è il fattore tempo. Infatti l'obiettivo figli ha la possibilità di utilizzare un orizzonte temporale di lungo, termine. Si parla appunto di 15, 20 o addirittura 25 anni, in base a quando si inizia. Un orizzonte temporale così lungo ci dà la possibilità di percorrere più strade, anche quelle più aggressive. Questi due fattori non li ho citati a caso, infatti cercherò di dare la mia opinione personale rispetto a due strumenti finanziari che a mio avviso non sono idonei a questo obiettivo finanziario. Il fattore libertà di scelta infatti, secondo me, va a eliminare i fondi pensione. Il genitore quindi può aprire un fondo pensione per il proprio figlio e versarci dei contributi come soggetto fiscalmente a carico, fungendo da legale rappresentante. In questo modo sì, si riuscirà sicuramente ad accumulare denaro del tempo, ma con molti limiti che vanno quindi ad eliminare la libertà di scelta che ho spiegato precedentemente. Infatti si potrà ritirare sempre in una somma prestabilita solamente per l'acquisto della prima casa o per esigenze di salute. Quindi a mio avviso lasciare così tanti vincoli al proprio figlio rispetto a un capitale che si voleva trasferirli non è la scelta migliore. Il secondo fattore, quello del tempo, va a escludere gli investimenti a basso rischio. Sto parlando delle obbligazioni singole e dei fondi obbligazionari. Infatti grazie a un orizzonte temporale di 15, 20, 25 anni si ha la possibilità di creare un portafoglio più aggressivo che anche a fronte di maggiore volatilità ci permette di ottenere un rendimento atteso superiore. Infatti andrei a sfruttare tutto questo tempo per riuscire ad espormi ad asset più rischiosi come possono essere le azioni. A testimonianza di questa tesi ti ho portato dei dati statistici. Questi sono tre portafogli di Vanguard creati con un asset allocation ben diversa. Il primo è Total Bond, quindi solo obbligazioni. Il secondo è il famoso portafoglio 60-40, 60% azioni e 40% obbligazioni. Il terzo è un portafoglio Total Stock, quindi solo azioni. Il rendimento con un orizzonte temporale di lunghissimo termine è veramente differente. Il primo ha un rendimento del 6,3% medio anno, l'ultimo del 12,3% medio anno. Quindi passare da un portafoglio solamente obbligazionario ad un portafoglio solamente azionario ci permette di raddoppiare il rendimento medio anno. Quindi il portafoglio solamente azionario è riuscito a sovraperformare di gran lunga i precedenti. Se si vuole diminuire questo orizzonte temporale e focalizzarci solo negli ultimi 20 anni, quindi dal 2002 al 2022, i dati non cambiano. Infatti l'indice azionario dei paesi sviluppati, l'MC World, ha permesso di ottenere un rendimento pari al 6,3% medio anno. Invece l'indice totalmente obbligazionario che va a investire in titoli di Stato della zona euro ha reso solo il 2,88% anno. Quindi anche in questo caso l'investimento solamente azionario ha permesso di più che raddoppiare il rendimento finale. Ora che sono riuscito a spiegare i due fattori imprescindibili per quanto mi riguarda per l'obiettivo figli possiamo procedere e andare a parlare dei tre migliori strumenti finanziari idoni al raggiungimento di questo obiettivo. Quindi se sei un genitore mi raccomando continua il video perché è di fondamentale importanza. Se vuoi ricevere assistenza da parte di Atena SCF ti lascio qui sotto il link in descrizione dove potrai andare a scoprire tutti i nostri servizi di consulenza finanziaria indipendente. Il primo strumento finanziario importantissimo per l'obiettivo figli è la temporanea caso morte o TCM. Si tratta di una polizza assicurativa sulla vita che permette di assicurare un capitale prestabilito per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un premio anno. Questa polizza assicurativa avevo già parlato in un video che ti lascio qui sopra dove vado a citare le tre assicurazioni più importanti per il buon padre di famiglia tra cui appunto c'è anche la TCM. Singolarmente avevo analizzato solamente la polizza abitazione quindi se vuoi che analizza singolarmente anche la polizza TCM nel dettaglio scrivimelo qui sotto nei commenti. Ora cerco di farti un esempio per comprendere al meglio la TCM. Con questa polizza assicurativa infatti per esempio puoi assicurarti un capitale di 100.000 euro per per esempio 20 anni a fronte del pagamento di un premio anno. Quindi per 20 anni si è coperti. Se succede l'evento di decesso il beneficiario riuscirà a ottenere il capitale assicurato pari a 100.000 euro. Ma quanto costa un'assicurazione di questo tipo? Con proprio questi dati alla mano quindi un capitale assicurato di 100.000 euro, un orizzonte temporale di 20 anni e un genitore che ha più o meno 35 anni di età il costo annio si aggira tra i 200 e i 250 euro che possono variare a seconda della compagnia assicurativa e a seconda se si è fumatori o meno. Si parla comunque di circa 20 euro al mese che dopo i 20 anni raggiungono un costo complessivo di circa 5.000 euro. Quindi a fronte di una spesa di 5.000 euro si riesce ad assicurarsi per 100.000 euro. Quindi in termini proprio di investimento puro si potrebbe ottenere un rendimento pari al 2.000 per cento. Ovviamente è meglio che questi soldi siano buttati per niente piuttosto che essere scoperti dal rischio d'eccesso. Per chi è consigliabile questo tipo di polizza ovviamente per il capo famiglia ossia per colui che all'interno del luco familiare è quello che percepisce il reddito maggiore soprattutto se la famiglia ha appunto dei figli. Ovviamente sarebbe ancora più opportuno in caso anche magari di due o più figli che entrambi i giuditori abbiano stipulato una polizza sulla vita. Il secondo strumento finanziario idoneo al raggiungimento dell'obiettivo figli è quello degli etf. Etf principalmente azionari e multi asset. Infatti abbiamo escluso precedentemente quelli solamente obbligazionari in quanto il nostro orizzonte temporale è veramente di lungo termine. Prima però di andare a parlare di quali sono gli etf più donne a questo obiettivo, quali caratteristiche devono avere e dove andarli a comprare è opportuno fare una premessa. Infatti su molti forum online sento spesso parlare di piani d'accumulo di etf per i figli. Questa ovviamente è la scelta più donna che anch'io mi sento di consigliare. Però bisogna tenere a mente che non è possibile trasferire il proprio dossier titoli ad un intestatario diverso. Quindi se dopo 20 anni abbiamo accumulato un investimento con l'obiettivo di trasferirlo al proprio figlio, questo non è possibile. Infatti non è possibile trasferire il proprio dossier titoli ad un intestatario diverso. Quindi non sarà possibile trasferire questo etf al proprio figlio. Ma quindi come si fa a trasferire un investimento? Purtroppo in Italia non si può. Si può solamente in caso di successione. Ma questo non è il nostro caso. Quindi come si fa? L'unico modo è quindi di andare a liquidare il proprio portafoglio di investimento, andare a pagarci le imposte e trasferire poi la liquidità al proprio figlio. Bisogna andare a pagare le imposte che per un etf azionario ammontano al 26% del controvalore totale. Ed inoltre tra virgolette si va a perdere il prezzo medio di carico che si era riuscito a realizzare con il piano d'accumulo. Per essere ancora più in regola questo trasferimento dovrebbe essere fatto tramite donazione diretta davanti a un notaio. Faccio un nota bene. Se hai due opi figli è opportuno che questo capitale venga distribuito in modo omogeneo in quanto potremo andare a ledere le cosiddette quote di legittima. Quindi è opportuno che magari si è accumulato un capitale di 100.000 euro e si ha tre figli ti andranno a distribuire omogeneamente all'incirca al 33, 33 e 33%. Se vuoi approfondire comunque la tematica, la successoria e delle eredità ti lascio qui sopra il link alla playlist. Dopo aver fatto questa doverosa premessa cerchiamo di capire come costruire un portafoglio per i figli. Ci sono principalmente due strategie di investimento, il PIC e il PAC. Il PIC vuol dire investire un'unica volta una certa somma di denaro. Il PAC vuol dire accumulare periodicamente la stessa cifra nel tempo. Ovviamente visto l'orizzonte temporale molto lungo è più facile andare ad utilizzare un piano d'accumulo. Il piano d'accumulo è opportuno che venga fatto su piattaforme apposite che permettono commissioni molto basse, un regime amministrato dove la piattaforma stessa fungere da sostituto d'imposta e quindi non bisogna pensare alla parte fiscale ed infine che abbia magari la possibilità di utilizzare un piano di accumulo automatico. Quindi lo si imposta solamente una volta e poi fa tutto lui senza dover ogni mese andare a comprare a mercato. La seconda cosa da capire è quale ETF utilizzare. Ovviamente è opportuno utilizzare un ETF con bassi costi di gestione, magari con un tar inferiore al 0,2-0,25%, che abbia molta liquidità, quindi che abbia una dimensione molto elevata e che comunque sia parecchio scambiato, che sia diversificato a livello geografico, settoriale e valutario, quindi io non andrei ad applicare la copertura a rischio cambio, che sia ad accumulazione e che quindi permetta di sfruttare la forza dell'interesse composto e infine che abbia come sottostante degli asset volatili, quindi principalmente azioni. Visto che il nostro orizzonte temporale ce lo consente. Ci sono due portafogli che si possono andare a creare, un portafoglio solo azioni e un portafoglio multi-asset, formato sia da azioni che da obbligazioni. Ti faccio ora un esempio di portafoglio solo azionario. Potrebbe essere formato dall'ETF di iShare che va a replicare l'indice MC World e che va a investire nei paesi sviluppati, dall'ETF di Vanguard che va ad investire nell'indice Fuzio World e quindi che va a replicare le società dei paesi sviluppati e dei paesi emergenti, oppure comprare due ETF. Un ETF che va a replicare l'indice MC World, quindi solo paesi sviluppati e un ETF che va a comprare l'indice MC Emerging Market e che va a replicare i paesi emergenti. In questo modo il peso dei paesi emergenti è superiore rispetto a comprare un ETF che va a investire in paesi sviluppati e emergenti insieme. Ovviamente la scelta di utilizzare solamente un ETF o più ETF dipende dal capitale che si riesce a versare periodicamente, magari ogni mede. Se si ha una disponibilità inferiore ai 200-300 euro è opportuno utilizzare un singolo ETF. Se si ha una disponibilità superiore è opportuno anche utilizzare più ETF. Ti faccio ora invece un esempio di portafoglio formato sia d'azione ed obbligazioni. In questo caso uno dei migliori ETF multistrategi presenti su Borsa Italiana è quello di Vanguard, i cosiddetti Vanguard Life Strategy, che permettono di andare e di investire in 4 strategie di investimento differenti. Quelle che però sono idonee all'obiettivo figli sono l'80-20 e il 60-40, quindi l'80% in azioni e il 20% in obbligazioni oppure il 60% in azioni e il 40% in obbligazioni. Entrambi ovviamente devono essere ad accumulo in quanto su Borsa Italiana è disponibile anche la versione a distribuzione. Se ti interessa approfondire gli ETF Vanguard Life Strategy ti consiglio di iscriverti al canale perché prossimamente uscirà una video recensione proprio su questa tipologia di ETF. Il terzo strumento finanziario di cui voglio parlarti è Bitcoin. Infatti Bitcoin è configurato come riserva di valore ed è scollegato al mondo delle valute tradizionali come il dollaro e l'euro che con il passare del tempo a causa dell'inflazione continuano a perdere poteri di acquisto e quindi valore. Bitcoin infatti nel medio e lungo periodo tende a crescere e quindi a non perdere il suo potere di acquisto. Con un orizzonte temporale così lungo è importante avere una piccola allocazione anche in quest'asset class. Quindi se credi fermamente in Bitcoin è opportuno anche accumulare una piccola quantità di Bitcoin anche inferiore a 50 dollari mensili. Importante anche in questo caso è utilizzare un piano di accumulo se possibile anche automatizzato su Bitcoin e magari ogni tre mesi si va a trasferire i Bitcoin accumulati dall'exchange a un wallet non custodial come può essere un hardware wallet per esempio il Ledger o il Trezor. In questo modo si diventa sia possessori che proprietari delle proprie criptovalute. Siamo giunti alla conclusione del video ma prima di lasciarti voglio rispondere ancora a due domande. Quanto iniziare ad investire e quanto capitale serve? La prima domanda quando iniziare ad investire è molto semplice, il prima possibile. Infatti già nei primi anni di vita del bambino è opportuno iniziare una strategia, un obiettivo di investimento mirato al proprio figlio. Quindi innanzitutto crearsi una base assicurativa con la TCM e successivamente introdurre un investimento che può essere per esempio creato tramite piano di accumulo di capitale. Quanto capitale serve per iniziare ad investire? In realtà molto basso, parlo veramente di poche centinaia di euro tutti i mesi. Infatti facendo due calcoli avrai la possibilità di regalare a tuo figlio 50.000 euro dopo 20 anni. Come raggiungere questa cifra? Questa cifra può essere ottenuta andando ad investire mese per mese all'incirca 200 euro distribuiti la maggior parte in un piano d'accumulo su un ETF ad accumulazione che magari va a replicare un indice azionario globale e una piccola parte quindi all'incirca 20-25 euro su una polizia assicurativa sulla vita che ci permetterà quindi di andarci a assicurare un capitale di 100.000 euro o magari 50 o magari 150.000 a seconda delle proprie esigenze. In questo modo con meno di 200 euro al mese sarà possibile regalare dopo 20 anni un capitale di 50.000 euro ai propri figli. Ovviamente capitale netto, infatti su questo capitale si saranno già pagate le imposte pari a circa il 26%. Spero che questo video ti tornerà utile adesso o in futuro. Ovviamente ti ricordo che se vuoi ricevere assistenza da parte di Atena SCF ti lascio qui sotto il link in descrizione per andare a scoprire tutti i nostri servizi di consulenza finanziaria indipendente. Prima di salutare voglio chiederti la gentilezza di andare a seguire il canale di Atena SCF. Infatti abbiamo notato che circa la metà di chi segue i nostri video non è ancora iscritto al canale. Quindi mi raccomando a voi non fa la differenza, per noi invece è molto importante perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere sempre più persone possibili. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima.